buonasera ben trovati con il notiziario di prealpina.it in primo piano la tragedia avvenuta sabato sulle piste di sci del compressorio di alagna valsesia dove filippo all'orio lo sciogliatore di 15 anni di invorio è caduto ed è morto poi all'ospedale di novara dove era stato trasportato per le gravissime lesioni subite ebbene oggi la procura di vercelli ha aperto un'inchiesta l'ipotesi di reato e di omicidio colposo i pubblici ministeri indagano per risalire a eventuali responsabilità sull'incidente avvenuto sulla pista di rientro classificata rossa da piana lunga ad alagna al vaglio degli inquirenti possibili negligenze o mancanze dal punto di vista della sicurezza al momento non è stato però comunicato se ci sono indagati o se le indagini sono a carico di ignoti non è da escludere una perizia sul luogo dell'incidente mentre è probabile che verrà disposta l'autopsia sul corpo del quindicenne deceduto sempre oggi al collegio don giovanni bosco di borgo manero dove il quindicenne aveva frequentato le scuole medie ci sono stati momenti di riflessione di preghiera in ricordo di filippo maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it e parliamo adesso di cove con i dati sul contagio lombardia comunicati poco fa dalla regione sale al 4,5 per cento l'indice di positività con 56 mila 968 tamponi effettuati quasi la metà di quelli esaminati sabato è di 2 mila 576 il numero di nuovi casi in lombardia sono 343 quelli in provincia di varese che provincia di varese che è seconda solo a milano con 1.045 in aumento i ricoveri sia in terapentansia che negli altri reparti ospedalieri 40 i decessi a causa del covid registrati nelle ultime 48 ore in lombardia nonostante i dati in crescita il presidente della regione atilio fontana spera ancora di poter restare in zona bianca a capodanno tutto dipenderà ha detto fontana dai prossimi due giorni ma credo che ci siano buone possibilità di rimanere in bianco ancora per qualche tempo fontana ha inoltre annunciato che per fronteggiare l'aumento dei contagi sono stati aumentati i posti ospedalieri sia in terapia ordinaria che intensiva spostiamoci ora sa varate dove questo pomeriggio si è verificato un grave incidente in via vittorio veneto un ciclista è stato investito da un'auto le condizioni dell'uomo che viaggiava in bicicletta sono preoccupanti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di legnano sono in corso ad opera della polizia locale di san malate i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente 100 euro di multa per ubriachezza molesta e la sanzione inflitta dalla polizia locale di castano primo ad un uomo che dopo aver bevuto troppo ha dato vita a dati contro la sicurezza e il decoro urbano l'uomo tra l'altro dopo aver dopo essere stato redarguito dai vigili ha cercato di rimettersi alla guida della propria auto pur non essendo in condizioni di farlo e chiudiamo con lo sport il calcio la propatria sarà di scena domani sul campo del dell'albinoleffe sentiamo come l'allenatore luca prima prepara questa sfida e cosa chiede ai propri giocatori risultato non il migliore ma il più cattivo più determinato chi gira l'interruttore e non pensa alla fidanzata i regali e al ritorno a casa una partita sporca tratta una partita che viene subito dopo 72 ore dopo un'altra partita in cui abbiamo speso molto con una rosa direi anni 80 no perché la panchina sembra di essere tornati quando e domani comunque sarà simile perché siamo quelli dell'altro giorno con bambi in più ma diciamo aggregato aggregato ecco quindi la sostanza non cambia quindi c'è un pericolo enorme però voglio dire sarà sempre così da qua alla fine dobbiamo portare questo equilibrio questo entusiasmo e sapere che comunque aggrapparci ad ogni partita perché ogni partita è anche un'opportunità di poter fare dei punti e quindi e dobbiamo portare il giusto entusiasmo della partita dell'altro giorno ma il giusto entusiasmo che non ti faccia perdere di vista che comunque il nostro percorso sarà questo sarà da battaglia sempre e con questo è tutto vi diamo appuntamento al notiziario di domani alle ore 13 buona sarà da battaglia Grazie a tutti.